Tra i tanti problemi che il nuovo sindaco del comune di Quarto dovrà affrontare una volta seduto alla poltrona ce n'è uno che si tende spesso ad occultare ma che può essere velocemente illustrato con un semplice dato numerico delle circa 100 delibere che il comune ha emanato dall'inizio del 2011 ben 60 riguardano incarichi legali che l'ente ha dovuto affidare per difendersi dalle numerosissime cause che lo riguardano. Questo ha comportato e comporta un consistente dispendio di risorse economiche che un ente locale con i conti in rosso come il nostro non può assolutamente permettersi. L'ovvia soluzione è quella di assumere un legale al servizio del comune in pianta stabile onde evitare un inutile sperpero di denaro. Noi come cittadini ci auspichiamo quindi che la prossima amministrazione accolga questo suggerimento e non continui secondo gli schemi del vecchio metodo gestionale ovvero quello dei singoli incarichi legali. grazie a tutti. Grazie a tutti